La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovati alla nostra rassegna stampa, iniziamo con le pagine del mattino. L'apertura tutta dedicata alla politica, Prodi, Boccia, Grasso, divide, voto, PD, le polemiche dopo la presentazione delle liste, la replica del leader di Liberi Uguali, centrosinistra spaccato per colpa di Renzi. E De Girolamo a Imo, la Carfagna non mi ha difeso, Berlusconi ingannato, ma forse Italia la smentisce. L'analisi, la doppia campagna elettorale e poi le interviste del mattino a Vittorio Sgarbi, che dice sarò l'esorcista delle fake news targate di Maio. A Paolo Siani, le mie idee contro i signori delle tessere e a Ciriaco De Mita, 90 anni, non mi arrendo, la DC rinascerà. Vediamo gli articoli di Spalla, il mercato in salita, quindi lo sport, Salta, Iones, ultimatum per Politano. E il colloquio, Sacchi, dopo, scusate, questo Napoli è una squadra di eroi nel calcio, solo potere. E lo scenario, Figgici, commissariata, l'ultima occasione che non va sciupata. Spostiamoci sul centro pagina. Cesaro, il caso del giudice al CSM. Cioffi, fotografato con esponenti di Forza Italia Ischia, dovrà giudicare i fratelli del candidato. La difesa, non ero alla convention, ho solo preso un caffè con alcuni amici nell'hotel del meeting azzurro. Ancora centro pagina, con il caso, lo spot con Gesù, il rispetto e la libertà, la condanna di Strasburgo ad una pubblicità lituana. Di taglio basso, la denuncia, ha il sangue infetto, la banga nega il mutuo. Lo stop alle informazioni sulla salute dei correntisti. E poi focus del mattino. Secchioni opera, il rebus dell'occupazione. Appello degli industriali a Cuneo, servono tecnici. Questa era la prima pagina del mattino. In primo piano, la politica con le candidature. Capolista sostituito in corsa De Girolamo contro Carfagna. Campania, Forza Italia smentisce la ricostruzione del deputato. L'SMS è mostrata a una chat in cui da Roma confermano la posizione di Nunzia. Nel mirino, il vertice regionale, il deputato chiede di sostituire il segretario. Andiamo avanti. Proprio con l'intervista annuncia De Girolamo. Ho ingannato anche Berlusconi, dice, ho i documenti del cambio. La deputata traslocata a Imola, Mara, non mi ha difeso. Sono dirigente del partito, continuo e andrò in Emilia, ma nel Sannio tornerò nel weekend. È stato scelto Sibilia, vedremo se supererà il 27% raccolto da me la volta scorsa. E su Berlusconi non l'ho sentito, ma nel caso fosse arrabbiato mi avrebbe chiamato. E vediamo altre situazioni. Zinzi escluso a Caserta. La boccetta fuori dalle liste accusa il partito. Antonio Fasolino depennato a Salerno. E Antonio Martusciello sfuma il rientro in Parlamento. Andiamo avanti con il centro-sinistra. Prodi, boccia, liberi e uguali. Il PD è per l'unità del centro-sinistra. Botta e risposta con Grasso che replica se siamo divisi la colpa è solo di Renzi. Parisi attacca D'Alemme e Bersani, non hanno la golden share della sinistra. Andiamo avanti. L'intervista a Paolo Siani dice La priorità a sanità e infanzia contro i signori delle tessere. La politica si deve interrogare, nei territori c'è bisogno di idee. Su De Magistris non rimangio quello che ho detto. Con lui la città è migliorata, ma non significa che cerco i suoi voti. Ho capito che De Ma sta con Aragno, ma se i suoi scelgono me io non posso che essere contento. E poi l'appello, chiedo ai miei avversari un incontro pubblico, l'elettore sceglierà. Rimaniamo su questa pagina. Cofferati, il ritorno a Genova, l'ex segretario della CGL, già europarlamentare del PD, è candidato con liberi uguali nell'uninominale a Genova. Crocetta, Renzi, politico medievale, l'ex governatore della Sicilia, escluso dalle candidature, attacca il segretario del PD, ha fatto un'epurazione. Frantoianni, liberi uguali, divisione in Basilicata, rottura vicina, dove sinistra italiana di Nicola Frantoianni è possibile, contestano a MDP un predominio nelle liste. E poi D'Alfonso, Abruzzo, bufera sul governatore. Luciano D'Alfonso, appunto presidente della regione, è candidato con il PD. Forza Italia, si dimetta, faccia la campagna da libero cittadino. Di taglio basso, su questa pagina, liste, vive il patto del Nazareno. Trasfughi tra PD e Forza Italia. Vediamo. Il diniego è caparbio, ma poco convinto, non governeremo insieme. Ma le larghe intese, centrodestra e centrosinistra, le hanno già strette con le liste elettorali. Da nord a sud sono molti gli apostoli del partito del Nazareno. I più cauti viaggiano da una sponda all'altra a bordo della zattera centrista, ma non mancano i temerari che hanno deciso di affrontare la battaglia elettorale sotto le insegne dell'antico nemico. E vediamo il caso Mancini Junior, in corsa con i democratici, aspira ad un assessorato di centrodestra. E Ali a Milano, da deputato forzista uscente, ha nome nuovo sotto il simbolo democratico. Lasciamo questa pagina. Movimento 5 Stelle, candidato, balla con spada, non mi pento. Destino numero 2 a Latina, scrisse anche su Facebook, per la terza volta ho menato un romeno. E la rinuncio a quel posto è sbagliato, se la mia presenza crea problemi mi faccio da parte. E sempre su questa pagina, da Alessandro, dallo staff della Merkel al collegio, nel Cilento contro Alfieri. Alessia, plurilaureata a 28 anni, parla 5 lingue, vive a Berlino dove lavora per la CDU. Andiamo avanti. Con l'intervista a De Mita. 90 anni e non mi rassegno, la politica è complessità. Il PD punta solo al potere, morirò democristiano. E a proposito del docufilm sulla sua vita, l'animale politico, dice Io attore, ma che non sono capace, ma quel documento su di me non è male. Passiamo alla prima pagina del mattino di Salerno. Strappo, Forza Italia, l'apertura sarà una disfatta. Veleni sulle liste, cascello a muso duro, Chi attacca il partito tradisce Berlusconi, la rabbia degli esclusi. Noi mortificati da Carfagna e Fasano e minacciano. Non faremo campagna elettorale. E poi le interviste del mattino. A Nicola Provenza, che dice Non sono l'anti di nessuno, De Luca Junior, io ho proposte. E Federico Conte, che dice Dem e destra senza identità, cifra comune, le clientele. Gli articoli di fondo. Musulmano in lista, la prof di religione finisce nel mirino. E poi al fiero in campo, lascio la regione, corro per i voti. Gli articoli di spalla. Trend, turismo, Salerno cresce, ma piccoli affari solo in quattro mesi. E municipi d'arte, boom di visitatori nel turra sorpresa, dei tesori nascosti. Centro pagina, processi 1500 senza sentenza da dieci anni. Dopo la cerimonia dell'anno giudiziario, ecco i nodi da sciogliere sui tavoli dei magistrati. L'allarme della Presidente Russo sul contenzioso nel settore civile. La pianta organica è inadeguata. E poi lo sport salernitana, trattativi a Milano, Bernardini non rinnova. Andiamo avanti. Con il caso, battaglia a Liberti sulla decadenza. Stoppa l'arresto, la mossa dei legali dell'ex sindaco di Scafati, dopo la decisione del GIP di non interrogarlo. E la giustizia, cause civili, dieci anni in attesa di sentenza, oltre 1500 provvedimenti a rilento, si accelera sull'organizzazione, ma c'è il deficit organici. E passiamo a Teggiano. Costituzione a scuola, il plauso di Mattarella. Stupore ed emozione per il sindaco Michele Di Candia e la sua amministrazione quando sono arrivate in comune le lettere del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Presidente del Senato, Pietro Grasso, per esprimere il grande compiacimento per il progetto Cittadinanza e Costituzione, la scuola in comune. Siamo felici, afferma il sindaco Michele Di Candia e l'assessore alla pubblica istruzione, Maddalena Chirico, dei messaggi ricevuti dai rappresentanti delle più alte cariche dello Stato. E queste erano le pagine del mattino. Passiamo alla città. L'apertura. Partecipate società in attivo, dove Palazzo di Città vanta il 100% delle azioni bilanci positivi, compresa Salerno Solidale. Spicca su tutte Salerno Energia Holding con un utile di circa 3 milioni. Sotto la testata, la ricostruzione del regionalismo Campania Autonoma, parte la sfida di De Luca. Aveva detto a fine 2017, sfidiamo le regioni del nord su costi standard, a inizio 2018 apriremo una trattativa con il governo su una maggiore autonomia per la Campania. Ieri il Consiglio regionale ha detto sì a De Luca, parte quindi la sfida. Centropagina. Il Liberty torna al comune. I lavori nell'area cotoniere dovrebbero terminare entro l'estate. La convenzione. Una volta chiusi i cantieri, la struttura è comunale. Gli articoli di fondo. La politica. Il centro-destra. I malpancisti di Forza Italia imprecano ma non vanno via. E poi le interviste. Castiello e il profa. Cunzo l'attore. Il doppio volto del Movimento 5 Stelle. Gli articoli di spalla. Consumi e tendenze. Mangiamo più carne ma molta è estera. Le storie. Ecco come vendo vino agli americani. E cava dei tirreni. Tornelli alla stazione contro i furbetti. Di taglio basso il dibattito. Migranti. Primicernio a ragione. Cariello. Sindaco di Eboli. Piana del Sele. Fare luce sul fenomeno. Questa era la prima pagina. Passiamo al Vallo di Diano. Il processo travolse e uccise una donna condannato a un anno. La Cassazione conferma la sentenza per un 68enne di San Pietro Altanagro. La pensionata fu investita mentre stava rientrando a casa in bicicletta. Teggiano. Elogi di Grasso e Mattarella per il progetto Costituzione. Sala Consilina. 7 mila euro per potenziare la protezione civile cittadina. Di taglio basso. Buon abitacolo. Minori e disabili sfileranno per il carnevale. E Teggiano torna il raduno di auto e moto storiche. Queste erano le pagine della città con cui termina la prima parte della nostra rassegna stampa. Diamo la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Bentornati in studio per la seconda parte della nostra rassegna stampa. Proseguiamo con le pagine di cronache. L'apertura. Forza Italia nel caos via De Siano e La Carfagna. Dura presa di posizione. Dinunzia De Girolamo dopo l'esclusione da capolista a Benevento. Accuse anche da Cardiello e di Giorgio. Fasano. Dispiaciuto del comportamento dei miei amici. Sotto la testata. Ultimo giorno di mercato ma in casa a Granata. Non si muove foglia. Lotito. Noseggio a Salerno. No acquisti. Il patron dell'uso dalla scelta beneventana. Scarica la Salernitana. Fabiani ha le prese con le cessioni. E prova con qualche scambio. Spostiamoci sul centro pagina. Con i grandi esclusi dalla corsa elettorale. Corteggiati illusi e poi beffati. Nomi eccellenti. Da Sica Milanese. Andrea Celano e Anna Petrone. Un'intervista a Provenza. Calcio e politica. Un programma con la gente. Di taglio basso. Scafati. Dopo il blitz da Fele, Chirico e Casciello sigilli al campo di calcetto del dipendente Coppola. Dietri sul mare, ben in casa, non fu calunniato per l'angella assoluzione bis. Battipaglia sequestrata alla salma del giovane Gennaro. Questa era la prima pagina di cronache. In primo piano i grandi esclusi. La maledizione di Sica. La beffa di Valiante. Andrea Ciricasca. Marotta in fuorigioco. Dal dossier Caldoro. Non c'è pace per il sindaco di Ponte Cagnano. Perde sempre al fotofinish. Sotto il veto della Carfagna si ferma Fasolino. Delusione per Celano tradito milanese. E compare quasi sempre, ma poi viene quasi sempre scaricata Anna Petrone, stavolta fregata da Emma Bonino. Di taglio basso su questa pagina sono 11 i consiglieri regionali della Campania in corsa per il Parlamento. Maria Ricchiuti e Alberico Gambino. I Salernitani. In corsa ci sono anche Borrelli, De Verdi e Passariello di Fratelli d'Italia. Andiamo avanti. Con il caos in Forza Italia. Nel partito qualcuno fa girare le liste. De Girolamo attacca Carfagna e Desiano, la deputata uscente. Il coordinatore regionale deve dimettersi. Necessario commissariare il partito. Zinzi. Indispensabile guidare il partito in campagna. con una classe dirigente seria. Non è un giocattolo. E vediamo il racconto di Nunzia De Girolamo. Nella notte di domenica chiamo il responsabile dell'organizzazione del partito, Gregorio Fontane, e chiedo ulteriori garanzie. Nonostante quelle già avute dei vertici, volevo che verificasse visivamente, se fossi prima e nel collegio di Benevento, la presenza di un coordinatore a me legato. Mi rassicura che è tutto a posto. La mattina seguente lo chiamo di nuovo per verificare la presenza di un consigliere regionale, Zinzi, uomo molto radicato nel territorio, anche lui fatto fuori. Sento quindi Fontana, che è uomo precisissimo, andare nel panico. Dopo cinque minuti mi richiama e mi dice di correre al partito perché, inspiegabilmente, non sono più la prima nella lista, ma la seconda. Quello che forse qualcuno non sa nel mio partito è che c'è sempre una manina che fa girare quelle liste e io l'avevo vista con i miei occhi. Questo cambiamento avvenuto nella notte significa quindi che qualcuno tra i rappresentanti regionali presenti, contravvenendo alle indicazioni del Partito Nazionale del Presidente Berlusconi, ha evidentemente cambiato queste liste. Si tratta di modi di agire culturali e sociali che noi dobbiamo estirpare e ritengo che lo possa fare solo Silvio Berlusconi, a cui chiedo oggi di dare una punizione per chi ha fatto cosa così ignobile come quella accaduta nella notte di domenica. Oggi credo che ci sia solo una cosa da fare, commissariare il signor Desiano non degno di rappresentare il territorio campano. Desiano deve essere rimosso perché la politica deve dare il buon esempio. E ancora spiega, quella notte a raccogliere le liste c'erano Desiano, Cesaro, Paolo Russo e mi dispiace molto dirlo, ma c'era anche Mara Carfagna. Io non riesco ad accettare che esista un metodo di donne che odiano le donne. E rimaniamo su questa pagina, sempre su Forza Italia, che si spacca nessuna campagna elettorale per aiutare i candidati. Questa è la polemica. Cermino lancia la sfida faccia a faccia, Fasano, Minniti e Amatruda. Non lasceremo il partito. La replica di Fasano che attacca i dissidenti, amareggiato per la reazione scomposta di alcuni amici. Andiamo avanti. Movimento 5 Stelle. Con l'intervista a Provenza dalla panchina alla politica sarà una campagna elettorale seria. Il grillino dovrà sfidare Piero De Luca a Salerno. Il programma, dice, deve arrivare ai cittadini. Il dottore salernitano, candidato al collegio uninominale della Camera, si racconta, ecco perché mi sono messo in gioco. E sempre su questa pagina l'intervista a Dea Squillante del Movimento Liberi e Uguali. Interessante e stimolante la sfida contro il centro-destra, dice la candidata dell'uninominale nell'Agro Nocerino. Lasciamo questa pagina, passiamo a insieme la nostra lista e un messaggio di unità. L'esclusione di Maraio non pesa, abbiamo già dimostrato la nostra forza. Parla Silvano De Luca, candidato al collegio plurinominale della Camera. Il centro-sinistra unito continua, può vincere. Sempre su questa pagina, Tofalo del Movimento 5 Stelle, onorato della candidatura nel mio territorio come cinque anni fa. E passiamo ad Agropoli. Alla guida di auto sotto l'effetto di droga e alcol, due denunce sorpresi dai carabinieri della compagnia di Agropoli sulle vie del Cilento. E Laureana Cilento, sola, le negano anche il telefono. Inquietante la storia di un'anziana isolata, il telefono in tilt da tempo. Una donna di 84 anni che vive da sola, costretta a non avere certezze e rapporti, per il tecnico non c'è nessun guasto. E Santa Marina, disagi diffusi per l'assenza di segnale della rete mobile Wind, il sindaco denuncia a prefetto e a G. Queste erano le pagine di cronache. Passiamo a Roma. L'apertura a mi candido con chi governa. Il trasformista viceconte confessa a Roma la scelta di schierarsi alla Camera con il PD. L'ex berlusconiano rincara la dose. Appoggio idendo per non fare leggere i responsabili. Sotto la testata no del comune a nuove pale potenza. Negate 10 pass per l'installazione di mini impianti eolici a piani del mattino. E Sanità, nomine contro leggero. Maniello scrive a Lorenzin e Madia si vigili sul caso dell'ex DG Maglietta. Spostiamoci sul centro pagina con lo sport. Potenza calcio. Il difensore Rada è prossimo alla firma con il leone. Panico nel mirino del Sassuolo. Matera calcio. Tensione per il caso Strambelli. La gente sbotta. Sciacalli a Matera. Gli articoli di SPA. L'agricoltura. Gianni Fabris si racconta a Roma e sgancia bombe su AGEA. Ottenere i fondi è un'odissea. Infrastrutture. Completamento della Muro Nerico Pittella assicura tempi più rapidi. Istruzione. Regioni e alunni più vicini. L'ente apre le porte per un corso di cittadinanza attiva. E trasporti. Abiusi spara a zero sulle istituzioni. Più di 30 anni per un nuovo piano. Di taglio basso. Verso il voto. Liberi uguali. E già caporetto. Coalizione in bilico. Non è andata giù a Frantoianni. L'epurazione di Baruzzino. E ancora. Ci lascia Infantino. Addio al leader dei tarantolati. E infine. Incidente a Scanzano. Prende fuoco un bus di studenti. Questa era la prima pagina del quotidiano Roma. Con cui termina la nostra rassegna stampa. Vi ringrazio di essere stati con noi. Vi auguro buona giornata. Grazie.